Era come se si fosse creata una lingua segreta tra loro e questa cosa mi ha sempre affascinato. Nel mio caso è stata lei che si è strutturata tutto un suo percorso, però tanti fratelli riescono ad attivare dei percorsi resilienti, come si chiamano adesso. Tanti altri invece fanno molta fatica. Raffaella Macedonio, vicepresidente dell'Associazione Autismo Arezzo, parla della sua esperienza personale e di come i suoi figli hanno trovato il modo di comunicare. Non sempre questo accade in maniera naturale, ecco il perché di un workshop che avrà lo scopo di supportare le famiglie e le dinamiche tra fratelli in presenza di un bimbo con disabilità. Il workshop si terrà ad Arezzo il 12 e 13 giugno presso la sede della COINEE, organizzato proprio dall'Associazione Autismo Arezzo. Sarà la dottoressa Carolina Amelio, ideatrice del metodo Caro Anto, a tenere gli incontri con le famiglie. L'obiettivo principale è facilitare l'introspezione personale, le relazioni tra fratelli e le dinamiche familiari, migliorare la qualità di vita del bambino e della sua famiglia. Ognuno, ogni membro ha una sua personalità, una sua normalità, coltiva dei sogni, delle aspettative, e quindi credo che proprio all'interno del nucleo familiare vada trovata la chiave, la soluzione per raggiungere un equilibrio un po' per tutti. Tante famiglie mi hanno contattato, mi hanno detto vorrei partecipare ma mio marito non accetta. E questa è una cosa, cioè se tu non accetti già la disabilità di tuo figlio, come fai poi a spiegarla all'altro figlio? Come fai a supportarlo? Quindi bisogna fare veramente dei passi indietro e partire proprio dalle basi. E la dottoressa Melio in questo senso vuole cercare di arrivare ai bambini direttamente, perché forse sono quelli che sono tabula rasa, quindi sui quali forse si può agire direttamente. Ovviamente i gruppi dei fratelli che si svolgeranno in questo workshop dai 3 ai 18 anni sono divisi per età. Nella fascia diciamo adolescenziale o comunque evolutiva non si parlerà direttamente di disabilità, proprio perché è un tema molto delicato. Si cercherà semplicemente nel suo piccolo di individuare la personalità del fratello per trovare degli spunti utili e dei consigli da dare poi alle famiglie e riversarli nel rapporto tra fratelli. Chi volesse partecipare deve mandare una mail a me, raffaella.macedonio.com oppure mandare una mail all'associazione, alla pagina Facebook Autismo Arezzo.